Allora siamo con Sandro Giacobbe e Paolo Vallesi, abbiamo presentato la manifestazione del 19 di luglio prossimo a Pietrasanta, il giorno pesca del cuore, la sera la partita, poi si prosegue in discoteca fino a nottefonda. Insomma, Giacobbe, bisogna avere un fisico bestiale come diceva il tuo collega Luca Carboni. Beh, meno male che lui ce la faceva, però ha già mollato, lui aveva questo fisico bestiale ma poi si è un po' fermato. Mentre noi ci siamo, ci siamo sempre ogni volta che ci chiamano, ogni volta che c'è bisogno di dare un segnale, siamo presenti. Adesso non so quanti arriveranno fino alla notte brava, però indubbiamente per la pesca al mattino, che sono le cose poi più importanti, la pesca al mattino e la partita indubbiamente siamo già pronti, abbiamo questa grande voglia di tornare a Pietrasanta e di dare veramente un segnale dopo la grande e bellissima partita di Firenze, continuare con questa terra che è talmente generosa che è persino commovente alle volte riuscire a capire come è bello fare qualcosa con queste persone. La Toscana vuole bene la Nazionale Cantanti, lo chiediamo a un fiorentino perché voglio dire a Firenze abbiamo fatto un figurone quest'anno, è stata una partita bellissima, adesso si torna a un altro evento in Versilia, Paolo Vallesi, il 19 di luglio. Ma io da Toscana e da Fiorentino sono particolarmente orgoglioso che la Toscana in questo momento sia veramente nel mirino della Nazionale Cantanti perché dopo il grande successo della partita del cuore è ancora l'eco di questa bellissima manifestazione, questo bellissimo successo, ricordiamo 40.000 persone allo stadio e un milione e mezzo di euro tra i incassi alla partita SMS che è stato devoluto. e prosegue con questa iniziativa un po' particolare che non si limita appunto alla singola partita ma avrà anche questa giornata di pesca dove io mi tiro già fuori in partenza perché non sono un pescatore e quindi partirò credo dalla partita. Ma hai detto ieri che vuoi pescare con me, ma hai detto ho visto che tu sei di Genova, sei più pescatore, adesso ti diri già indietro. Io metto le mani avanti. Non sarà che pesca nell'acquario a Genova. Appunto, meglio nell'acquario che nel Ticino come fa Drupi. Diciamo che insomma, vediamo, se trovo un compagno all'altezza che non mi sembra il caso quindi mi ci metterò anch'io. Però insomma sono felice e spero anche se lo stadio di Pietrasanta è uno stadio di una capienza abbastanza ridotta per cui i biglietti stanno già andando. 10 euro tra l'altro, ricordiamo. Sì. Prezzo popolarissimo. Che soprattutto, ancora più di ricordare questo, ricordiamo l'associazione Niccolo Galli Onlus presieduta chiaramente da Giovanni Galli e l'ospedale Meier di Firenze al quale poi andranno anche devoluti gli incassi. Nel caso della partita mi preme dire che la nostra, forse l'unica manifestazione in Italia che è esente da SIA e per cui 10 euro di biglietti non vengono decurtati in qualche modo ma vengono interamente devoluti. Noi dopo un mese della partita consegniamo direttamente l'assegno a chi di dovere e siamo anche testimoni delle finalità del progetto perché si fa molta solidarietà ma è bene essere trasparenti all'inizio e alla fine perché qui ci sono persone che ci mettono la faccia da oltre 20 anni, 30 anni e non sarebbe così se non fosse estremamente trasparente. L'invito che facciamo a tutti è per sabato 19 luglio di essere presenti o a vedere la giornata di pesca o ancora di più a vedere la partita. Poi dopo chi ce la farà proseguiremo anche con questa festa la quale mi tiro dietro anche da lì perché ormai... Grazie a tutti, ci vediamo il 19. Ciao, grazie. Grazie.